Cosa succederebbe se tornasse il servizio di leva obbligatorio? Tornerebbe anche il test dei tre giorni. Ecco come rispondere per apparire pazzi ed essere esonerati. Vi verrà chiesto, vedo persone o animali che non esistono? La risposta giusta è vero, ovviamente. Ma come fare per risultare credibili? È più facile di quanto si pensi. Vero Cristina? Ma che bel gatto! Puoi saccarezzarlo Cristina? Nicio? Nicio? Aia! Però tagliamogliele queste unghie Cristina. Bell'inghippo questo comma 22. Dov'è? 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 No!